a partito state giustare vai ora pufà vedi la benzina non si ora la sparse la rota non la benzina attenta ora penso che la balanza allora e allora capito che funziona solo se mi fosse ripresa si poteva intrusare tre quarti d'ora di ripresa porta a me ehi guarda la misericordia guarda la miscella a te oh la miscella dove l'ho messo la miscella dove l'ho messo la miscella dove l'ho scortata la miscella ma stefan facciami la venena ora scusa ma la caccio la chiamata dentro ma che fai? ma sta a pieno non ci vedete non ci vedete è un po' di press ma questo quanto non c'è riuscita ma c'è la bambina non c'è la bambina ma qua va ah se dovevi a taglia a taglia ah ah troppa fredda Ehi! 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 I'm going to put this in the machine! ma 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 mi ha detto che si legge il pato e io ho una madre e io qui dai che non posso farlo dai 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 di di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.